buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a forne capitolo 4 stagione 3 settimana numero 97 agosto 2023 stanotte è uscito nello shop giornaliero nei negozi oggetti gita shock che ha un debole per loro letteralmente nuova skin di questa stagione un set che comprende backpack piccone e skin con due stili ciascuno e se raggiungiamo 50 like e mille iscritti al canale quindi da quando iscrivetevi attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono metterà in paio questo set da 1500 di back per uno di voi quindi aggiungetemi su fornit in alto a destra vedete il mio account non account e se appunto raggiungiamo i 50 like a questo video e i mille iscritti quindi insieme metterò in paio nella lista regala regali per gli amici questo set per uno di voi quindi mi raccomando iscrivetevi al canale supportatelo con un like condivete il video con i vostri amici e io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto oggi pomeriggio ne uscirà un altro davvero interessante quindi iscrivetevi al canale e buon game a tutti noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.